Corteo di barche Napoli con la capitana, la flotta di De Magistris in mare nella giornata mondiale del rifugiato, corteo di decine di imbarcazioni, il sindaco Elogia e il comandante Carola arrestata a Lampedusa per aver salvato i migranti, siamo in navigazione per lei, mi vergogno di questo governo. Saldi, si parte, caccia all'affare, hanno preso il via ufficialmente oggi gli sconti, la campagna anticipato per sfruttare l'effetto universiadi, soddisfatti consumatori che punteranno soprattutto sui capi d'abbigliamento con gli esercenti fiduciosi di poter aumentare il giro d'affari, il caldo però rallenta gli acquisti. Isochimica ancora morti e polemiche, strage senza fine per l'ex stabilimento Irpino dei Veleni dopo la morte di Gian Mario Parlato, vittima numero 28 dell'impianto. E non si placano le polemiche per l'udienza del processo a Napoli, sospesa ieri per colpa del caldo. Rogo in fabbrica, incubo lume tossica, paura a Castel San Giorgio nel Salernitano, le fiamme hanno distrutto i capannoni di un cementificio, indagano i carabinieri. E intanto a Napoli è esposto in procura della municipalità per un incendio di rifiuti nei pressi del campo Rob di Scampia. Canapa Salvini denunciato in procura, diffamazione con questa accusa, i lavoratori sanniti del settore si sono rivolti ai carabinieri di Benevento. Del mirino la stretta del ministro dell'interno sulla commercializzazione della marijuana legale. E questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel News, canale 696. In apertura, corteo di barche, Napoli sta con la capitana. La flotta di De Magistris in mare, nella giornata mondiale del rifugiato, corteo di decine di imbarcazioni. Il sindaco elogia il comandante Carola Rachete, arrestata a Lampedusa per aver salvato i migranti. Siamo in navigazione per lei, le parole del primo cittadino. Mi vergogno di questo governo. Vediamo. Un corteo dedicato a Carola e ai migranti della Sea-Watch, quello che si è svolto nel Golfo di Napoli questa mattina. Una manifestazione organizzata dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Mi sento oggi in particolare di dedicare questo corteo alla comandante Carola Rachete e a tutte le donne e gli uomini perseguitati per ragioni di giustizia. Provo davvero imbarazzo per uno Stato che ha perso il senso della misura e dell'equità, che mostra muscoli arrugginiti per alimentare un potere in decadenza invece di attuare i principi fondanti della Costituzione repubblicana nata dalla resistenza al nazifascismo. Quindi oggi bisogna essere partigiani. Presente anche la coordinatrice nazionale di Open Arms, Veronica Alfonsi. Siamo naturalmente con i nostri amici di Sea-Watch, con Carola. Non si possono tenere 40 persone per 12 giorni in mezzo al mare, persone che hanno già subito violenze, che hanno naturalmente vissuto esperienze traumatiche. Era già successo, non era la prima volta. Crediamo che ci debba essere un impegno, una presa di responsabilità di tutta l'Europa, che si deve sedere intorno a un tavolo e decidere in che modo gestire questo fenomeno, che è un fenomeno che certamente non si arresta facendo finta di chiudere i porti. Cambiamo argomento. Quella di oggi è stata una giornata tutto sommato più tranquilla, complice anche le chiusure del fine settimana. Ma il vero banco di prova sarà lunedì con l'incubo di una nuova giornata di caos. A Napoli resta forte la preoccupazione per la nuova viabilità legata alle universiadi. Il piano adottato dal Comune ha fallito alla prova d'esordio e si lavora ai correttivi. A lamentarsi non solo gli automobilisti, prigionieri delle code, ma anche gli esercenti, in particolare quelli del lungomare, che parlano di incassi al minimo. Il rischio, insomma, è quello di danneggiare l'economia della città se non si corre subito ai ripari. Intanto lunedì è in programma la presentazione ufficiale dell'evento con il presidente della FISU, Oleg Matizin, il governatore della regione, Vincenzo De Luca, e il commissario straordinario delle universiadi, Gianluca Basile. Si sta concludendo in Campania il primo giorno di saldi anticipati grazie alle universiadi che vedranno la nostra regione protagonista di una serie di eventi che richiameranno numerosi turisti. Il servizio. Primo giorno di saldi in Campania, agevolazioni arrivate in anticipo grazie alle universiadi. Secondo le stime di ConfCommercio ogni famiglia spenderà in media poco meno di 230 euro. La speranza per i commercianti sono le universiadi con l'arrivo nelle città campane interessate di migliaia di turisti che seguiranno le competizioni sportive per le universiadi. Ci aspettiamo comunque un'affluenza maggiore con questa cosa delle universiadi. Speriamo che ci portino fortuna. Siamo pronti, siamo carichi, ci aspettiamo tanti turisti. Speriamo che comunque la città di Napoli possa accoglierli nel migliore dei modi e speriamo anche che ci sia poi un ritorno economico anche per i commercianti, come giusto che sia. Io penso che dovrebbero fare tutto l'anno come stanno i fatti perché qua è una crisi mondiale. È una buona occasione ed è una piacevole sorpresa che abbiamo trovato facendo una passeggiata stamattina. Penso che veramente sia una buona opportunità comprare dei prodotti a un prezzo ridotto anche perché in periodo di crisi tutti quanti vogliamo risparmiare. C'è possibilità di spaziare un po' dalla magliettina al pantalone, al sandaletto. Sono davvero delle cose molto graziose. Sconti sempre sotto la lente di ingrandimento di clienti ed associazioni contro le truffe. Parliamo ora del piano lavoro della regione Campania. C'è la data di inizio. I bandi saranno pubblicati l'8 luglio ad annunciarlo questa mattina a Eboli il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca. Noi sentiamo Giovanni Battista Lanzilli. C'è anche la data. Fra poco più di una settimana sarà pubblicato il bando per il piano lavoro della regione Campania. Ad annunciarlo il governatore Vincenzo De Luca che ha fatto tappa ad Eboli nel Salernitano per il sopralluogo al palazzetto che ospiterà alcune gare delle universiadi. Tutto pronto dunque per il programma occupazionale che, ha ricordato l'inquilino di Palazzo Santa Lucia, è destinato a 10.000 giovani della regione. L'8 luglio sarà pubblicato il bando per il piano del lavoro della regione Campania. Finalmente, 3.000 posti di lavoro, 10.000 posti di lavoro per i giovani diplomati e laureati della Campania. Sarà questa un'altra opportunità splendida che diamo ai giovani e un altro tentativo per bloccare il flusso di emigrazione che rischia di impoverire la nostra regione. Non è mancato poi un passaggio sul litorale. L'obiettivo e l'ambizione è di mettere in campo anche per la Piana del Sele, un masterplan di rilancio e bonifica della costa così come avviato per il litorale Domizio. Poi vorremmo lavorare a sud di Salerno a fare un masterplan come stiamo facendo per il litorale Domizio. Quindi subito dopo ci sentiremo con i sindaci e vedremo di avviare questo lavoro di valorizzazione di tutta la costa sud Piana del Sele e Cilento della Campania. Si stanno aprendo prospettive davvero molto affascinanti per lo sviluppo dei nostri territori. Caos al pronto soccorso del San Giovanni Bosco al triage. Una donna sta male, si sdraia per terra e viene circondata da alcuni familiari che chiamano i soccorsi. Stiamo vedendo le immagini in questo video amatoriale. Arriva una sedia a rotelle su cui si fa fatica a caricare la donna. Sembra una crisi convulsiva. Un uomo tra quelli che la accompagnano all'arrivo di una guardia giurata mentre sembra aiutare a sollevare la donna si scagna invece contro l'uomo in divisa della security e afferra l'arma in dotazione alla guardia. La strenua resistenza dell'uomo e l'intervento risolutori di alcuni poliziotti in borghese del nucleo antiscippi della questura in quel momento nel pronto soccorso per accompagnare un collega evitano il furto dell'arma. La scena è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso interne al pronto soccorso del presidio della Doganella. Strage senza fine, parliamo dell'isochimica. Muore il ventottesimo operaio il 64enne avellinese Gian Mario Parlato e non si placano le polemiche per l'udienza del processo ieri a Napoli nell'aula bunker sospesa per il troppo caldo. Vediamo. Addio a Gian Mario Parlato se ne va la ventottesima vittima della mattanza isochimica 64 anni di Avellino Gian Mario e in questa fotografia storica che sta facendo il giro dei social il terzo da destra. È stato stroncato da un infarto ma c'è più di un dubbio che fosse anche lui vittima della patologia dell'asbestosi. L'esposizione all'amianto dopo aver lavorato allo scoibentamento delle carrozze e delle ferrovie dello Stato per anni. I funerali di parlato si svolgeranno domani alle 8.30 nella chiesa di San Ciro ad Avellino. Solo ieri c'era stata l'ennesima beffa del processo per i lavoratori ancora in vita. A Napoli udienza sospesa per il troppo caldo. Carlo Sessa storico operaio è una furia. Un accanimento verso di noi da non gridere dalle istituzioni della città da tutti ma voglio prima ricordare il collega l'amico Gian Mario Parlato la persona per bene che ha lavorato con noi purtroppo è un altro che stanotte ci ha lasciato lui aveva una patologia ma si deve vedere la causa dell'infarto se ogni essere umano muore col cuore però si deve vedere le cause se è una crisi respiratoria quindi poi sarà all'avvocato ai magistrati purtroppo continuano i giorni tristi per non dire quello che è successo ieri. Se un'operata dell'isochimica ieri sbatteva a terra e faceva la fine e purtroppo del collega ha parlato quindi erano due tre il posto di uno con chi ce lo doveva prendere noi non siamo persone normali perché portiamo un mostro nel nostro organismo da 37 anni quindi in quella condizione Carlo Sesse ed altri a Napoli non ci potevano stare a ir Ancora un suicidio nel carcere di Poggio Reale CM 38 anni è morto in una cella del padiglione Napoli lo ha trovato impiccato il cognato detenuto nella stessa cella si tratta del terzo suicidio nelle carceri campane quest'anno il 23esimo in Italia nel 2019 non si può morire di carcere e in carcere lo rende noto Samuele Ciambriello garante per i diritti dei detenuti in campania il padiglione Napoli aggiunge è uno dei più vecchi di Poggio Reale e qui in nove anni si sono verificati diversi suicidi incendio in un'azienda del Salernitano a Castel San Giorgio ad andare a fuoco due capannoni di uno stabilimento per la produzione di calcestruzzo i carabinieri al lavoro si indaga per risalire alle cause del rogo Sara Botte un rogo spaventoso e una densa coltre di fumo nero che si è diffusa per chilometri nell'agronocerino sarnese incendio nei capannoni della ditta Villani Calce di Castel San Giorgio azienda del Salernitano che produce e vende materiale edile e vernici il rogo si è sviluppato all'interno alle 10.30 circa di questa mattina alimentato forse anche dal gran caldo e dal forte vento altissime le fiamme completamente distrutti due capannoni della nota azienda di calcestruzzi in salvo fortunatamente gli operai presenti che sono riusciti ad allontanarsi senza problemi non risultano feriti ingenti danni invece alle strutture mentre si indaga sulle origini del rogo sul posto sono giunti vigili del fuoco del distaccamento di nocera inferiore per i primi interventi di spegnimento quattro le persone al lavoro i carabinieri della locale stazione intanto stanno cercando di risalire alle cause dell'incendio per quanto riguarda l'ipotesi dolosa i titolari dell'azienda gli inquirenti hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce a causare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito diverse denunce per diffamazione contro il ministro dell'interno Matteo Salvini le hanno raccolte i carabinieri di Benevento da parte dei lavoratori del settore della canapa che così hanno aderito alla protesta nazionale lanciata contro la stretta del vice premier sul comparto Maria Teresa De Lucia tre denunce querele contro il ministro Matteo Salvini le hanno presentate questa mattina i gestori di alcuni canapa shop di Benevento ai carabinieri il ministro dell'interno è stato denunciato per diffamazione per quello che ha dichiarato riguardo alle attività di vendita della canapa noi come negozianti nel settore della canapa almeno io sono un lavoratore sono onesto e penso di dover far valere adesso i miei diritti perché ho fatto un investimento e sto cercando di portare avanti il mio lavoro li chiuderemo uno per uno aveva dichiarato il vice premier dando il via alla stretta che ha portato a verifiche dei canapa shop anche nel sannio con tanti disagi per questi giovani imprenditori hanno fatto una sorta di censimento non so se è lecito o non lecito però comunque alla fine hanno fatto una sorta di censimento chiedendo i documenti dell'attività sì purtroppo questa pubblicità negativa ci sta portando comunque dei disagi a livello lavorativo perché comunque si sono abbassate le vendite questo è sicuro e per reagire alla presa di posizione del ministro dell'interno arriva la protesta che si sta diffondendo in tutta Italia ho aderito semplicemente a una manifestazione nazionale un modo di protestare nei confronti del ministro tramite una denuncia fatta qui alla caserma dei carabinieri una denuncia di diffamazione adesso vediamo la risposta da parte del ministro quale sarà ad Avellino è polemica sulle dichiarazioni del cantante Morgan che hanno preceduto la sua esibizione il suo concerto di ieri cachet e location inadeguate sono stato umiliato la città di Avellino però non c'entra nulla dice Morgan devolverò tutto ai senza tetto sentiamo non si placano le polemiche tra Morgan gli organizzatori di Irpiniamù degli avellinesi che si sono sentiti offesi dallo sfogo del cantante ieri poco prima della sua esibizione al corso Morgan aveva contestato cachet e location definendole inadeguate aggiungendo di essere stato trattato dai promoter come un principiante e la sua intenzione di devolvere il cachet ai senza tetto la replica dell'associazione non si è fatta attendere non serve sottolineare scrivono che ogni singolo punto nel contratto concordato e formalizzato con il tuo management è stato rispettato dalle schede tecniche al cachet era tutto sottoscritto il luogo in cui hai suonato di fronte a migliaia di spettatori in fondo ti è piaciuto lo dimostrano le due ore di esibizione avellino in momenti storici diversi dal nostro ha ospitato cantautori e artisti di livello mostruoso indimenticabili i portavoce dell'associazione inoltre accolgono l'invito di Morgan a devolvere il suo cachet a favore dei bisognosi ma sono tanti i cittadini indignati delle parole di Morgan a cui l'ex blu vertigo ha risposto con un altro post su facebook non c'entra nulla Avellino chi si offende non ha capito nulla di nulla io le persone di Avellino che ieri sera hanno partecipato al concerto le ho trovato più intelligenti di chi fa uno strano uso di vicende chiarissime sono stato benissimo ad Avellino e dico che è veramente faticoso tutti i giorni lottare con questo mondo di cacciatori della strumentalizzazione Un'emergenza rifiuti nel Sannio produrrebbe effetti devastanti così l'azienda che si occupa della raccolta Benevento e intanto in uno dei centri sanniti domani c'è il divieto di depositare l'umido sentiamo Se ne parla da mesi ed ora che lo spettro di una nuova emergenza rifiuti in Campania si fa più concreto il Sannio fa i conti anche con la mancanza di impianti sul territorio dopo lo stop dello stir di Casalduni dato alle fiamme 11 mesi fa è mai riaperto presto effetti devastanti l'Asia l'azienda per la raccolta lo smaltimento dei rifiuti di Benevento lancia l'allarme denunciando l'emergenza in corso presto il sistema senza impianti sul territorio utili ad assicurare l'autonomia per il ciclo dei rifiuti avrà effetti devastanti occorre fare presto ed evitare il peggio secondo il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca invece l'unica soluzione alla crisi è trasferire i rifiuti umidi fuori regione ad eccezione di Salerno infatti in Campania mancano impianti di compostaggio occhi puntati a settembre quando ci sarà lo stop temporaneo del termovalorizzatore di Acerra e ci sono già i primi riscontri a San Giorgio del Sagno il sindaco Mario Pepe ha annunciato che lunedì mattina non ci sarà la consueta raccolta e dunque domani per gli abitanti del centro sannita vige il divieto di depositare la frazione umida parliamo ancora di ambiente monitorare la qualità delle acque che finiscono in mare e rischiano di contaminare l'ecosistema Lega Ambiente Salerno continua nella campagna per salvaguardare i fiumi del territorio questa mattina i prelievi alla foce del fiume Irno poi toccherà al grande malato il fiume Sarno Giovanni Battista Lanzilli una situazione preoccupante che testimonia quanto sia ormai compromessa la qualità dei corsi d'acqua Lega Ambiente prosegue nel tour tra i fiumi della provincia di Salerno attivisti al lavoro per una serie di prelievi e campionamenti alla foce del fiume Irno il corso d'acqua è l'indiziato numero uno nel trasporto di elementi inquinanti e beleni che finiscono poi direttamente nel mare di Salerno e dopo l'Irno fanno sapere gli esponenti dell'associazione ambientalista toccherà al grande malato il fiume Sarno adesso siamo sul fiume Irno ci saranno sei punti di campionamento oggi ne abbiamo fatti tre per monitorare lo stato di salute delle nostre acque che ovviamente versano in pessime condizioni noi ci concentriamo sulle analisi chimiche abbiamo installato un piccolo laboratorio da noi in sede insieme al supporto di un chimico analizzeremo la presenza dei metalli nelle nostre acque dopo l'Irno seguirà il Sarno che come ben sappiamo è uno dei più inquinati d'Europa a seguire a settembre il Sele e il sabato e poi il dossier dove daremo tutti i nostri dati la presenza di inquinanti derivanti soprattutto dall'agricoltura dagli scarichi abusivi e poi dalla lavorazione delle fabbriche soprattutto per quanto riguarda il Sarno Svolta nel Sarno nell'inchiesta sulla morte della piccola Maria la bimba di 9 anni annegata in una piscina in un resort a San Salvatore Telesino martedì mattina la salma della piccola sarà riesumata dopo l'ordine del giudice di effettuare una nuova autopsia i particolari nel servizio sarà risumata martedì prossimo 2 luglio la salma di Maria 9 anni la bimba rumena che il 19 giugno 2016 era stata trovata senza vita annegata nella piscina di una struttura ricettiva a San Salvatore Telesino nel Sarnio dopo il disseppellimento la salma sarà trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Foggia dove mercoledì sarà sottoposta all'autopsia si tratta del proseguio degli accertamenti disposti dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento nell'incidente probatorio chiesto dal procuratore aggiunto Conso che conduce le indagini sulla morte della bambina martedì dunque un nuovo capitolo della tristissima vicenda dopo la campionatura e le analisi di 32 vetrini relativi ai vari tessuti ed organi selezionati durante l'autopsia eseguita tre anni fa e dell'avvio della nuova procedura per la ricerca con una nuova tecnica di materiale biologico su alcuni indumenti operazione queste ultime effettuate l'11 giugno scorso a Catania è tutto per questa edizione di 8 Channel News canale 696 grazie in regia a Michele Urciolo vi lascio alle previsioni del tempo una buona serata da parte mia arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti